Grazie a tutti. 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 Veseli se, svakimu se divi, nek se znade da Bunjevac žive. Tamara Babis. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 attivati a tutti. a tutti. Bacchi Bunjevaca, Purodica, Jozić, da vuole Vam živoprase. Ajmo applauso, može? Anja, to radi, vrlo sistematski, da vediamo, komi ide prase? Živoprase ide 929. 929. Sada navadim jedan ogroman sadatak. Došli smo do toga da izvučemo konačno i glavnu premiju. Savjezbački Bunjevaca poklanja glavnu premiju, a to je Color Televizor. Da pomogne u izvlačenju iz ove sakone činije, poleteće sve tombole, Anja će uhvatiti jednom, pa da vidimo koji srećni dobitnik. Dakle, Color Televizor, dar, savjeza Baški Bunjevaca. Izbaci. Baci, 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 baci. Jel' ostala jedna barem? Da. Da čujemo broj. 724. 724. 724 Color Televizor. Marija Farago. Marija Česitavo. Bravo. 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 Jaj. Šta da kažem? Čekajte se. Siete zadovoli? Siete sreći? Sretna sam od jutro che sono arrivato al prelo e mi pensavo che dovrò che dovrò? Non mi sembra bella una foto ma Stipan non mi ha dato non mi ha dato un altro Non è una foto bravo, pieno di foto Oggi c'è più di più di foto Hvala! Od srca Buonjevci Sve sreći non mi sembra di stare non mi sembra di stare guardate cosa ti volete Grazie Grazie a tutti Sve sreći Tomvola Prva nagrada Color Televizor Darodalac Savis Bacchi Buonjevaca Subotica Dodeleio Mari Faroga Iso Dala Dietro Dala Ne Pozdravimo Un'aplauza non mi si Dala 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.